Salve a tutti, sono Feiri, e oggi vi porterò in un mondo di magia con una favola speciale. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale per non perdere nessuna avventura. E non dimenticate di lasciare un mi piace se vi è piaciuta la storia. Inoltre se volete vederla in inglese vi basta cliccare sul link nella descrizione o attivare i sottotitoli nella vostra lingua preferita. In un tranquillo villaggio vicino a un lago brillante viveva una giovane ragazza di nome Maya. Maya era una sognatrice, sempre affascinata dalla magia del lago vicino a casa sua. Una sera d'estate, mentre passeggiava lungo la riva del lago, Maya notò delle piccole luci danzanti tra i cespugli. Si avvicinò con curiosità e scoprì un gruppo di lucciole che illuminavano la notte con la loro luce incantevole. I piccoli insetti luminosi sembravano ballare insieme, creando uno spettacolo magico. Maya osservava incantata le lucciole che sembravano comunicare non con parole, ma con la loro danza luminosa. Iniziò a capire che ognuna di loro aveva un ruolo preciso nel quadro che stavano dipingendo nel buglio. Determinata a scoprire il segreto di questo spettacolo, Maya chiese aiuto ai suoi amici del villaggio. Insieme, raccolsero informazioni sulle lucciole e scoprirono che ognuna di loro aveva una piccola luce, e che quando si riunivano riuscivano a creare uno spettacolo straordinario. Una notte, durante una festa sotto le stelle, Maya mise in pratica ciò che aveva imparato. Riunì tutti i suoi amici e chiese loro di portare con sé una piccola lampada. Una volta accese, si resero tutti conto che, uniti, potevano creare qualcosa di bello e luminoso, proprio come facevano le lucciole. Da quella notte in poi, il villaggio organizzò regolarmente feste luminose, dove ogni abitante portava la propria lampada. Ogni volta, il villaggio risplendeva di gioia e di magia, proprio come il lago delle lucciole. Così si conclude la nostra favola sul lago delle lucciole. Ricordate sempre che insieme possiamo fare cose straordinarie, proprio come le lucciole nel nostro racconto. Non dimenticate di seguire il mio canale per altre avventure e di lasciare un mi piace. E ricordate, la luce più piccola può brillare quando si unisce ad altre luci. A presto e grazie per essere stati con me oggi.